ciao belli e benvenuti in questo nuovissimo video è successo l'impossibile con un mio amico in una ranked con la quale non giocavo da un sacco di tempo è arrivato e ha fatto il panico ti lascio al video che è stupendo bravo dire di me calmo calmo fatti lo slope fatti lo slope altro team un mostro lui mi deve svegliare così stamattina non sono forza calmo 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 mini 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 beh però che cazzo è botto a me non hanno a me non hanno fatto così a me mando forse un paccio di un'imitragliata con due due marco dio finito appunto che qual'era in bocca quello shot no no ragazzi è pazzoso che cazzo come non si è svegliato stamattina coglione luutti resta desta veloce ti ha svegliato ti ha svegliato che è svegliato che è svegliato citando ecco qua è troppo male è facilissimo è facilissimo guarda che ciollone come scappa sono proprio dei ciolloni ma questo muore ma perché non muore e non muore più sei morto ah ok se stai fermo nel ruolo di lì l'ho hit non te non ho manco visto mamma le botte di merda che cazzo dell'OB è che cazzo che cazzo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come ti fanno la spada? Eeeh, prendi AIG, prendi AIG! Sprayali, sprayali! Tutti sotto di te. Che sto facendo? Non c'è più? Non lo sapevo quanti è. Ah, la mira con la mitra è un po' da migliorare. Ah! Fatino sull'urpenica. 200! Poverty! E' per un solo, proprio. Per un altro, proprio. Non c'è... Ah, questo è due arme, perché... Eta, bravo... What the fuck was that? Questa è... incontro un ragazzo in duo ranked e succede questo Ho il paore! Cioè fai un video! Vuoi che faccia un video? Lo puoi fare? Certo che posso fare Mi ha fatto rank up Anche a me Mi ha fatto platino 1 67% A me ha mandato tipo 102% Anche a me